Anche la Cisla di Sondrio esprime perplessità sulla decisione del comune capoluogo di istituire la sosta a pagamento nel parcheggio del Policampus in via Tonale con l'obiettivo di garantire maggiore turnover dei posti. Temiamo una pesante penalizzazione per molti lavoratori, afferma il referente del settore viabilità e trasporti del sindacato, Michele Fedele. Questi parcheggi infatti non sono utilizzati solo dai pendolari del treno, per i quali se titolari dell'abbonamento ferroviario rimarrebbe la gratuità, ma anche da chi lavora in città e proviene dal circondario, che deve ricorrere necessariamente al mezzo proprio, essendo il trasporto pubblico locale calibrato sull'orario scolastico. Due euro e mezzo al giorno per lasciare l'auto in sosta determinano un importo mensile di 50 euro. Escluso il mese di ferie fanno 550 euro l'anno, aggiunge Fedele, altro che importo simbolico per i lavoratori si tratterebbe di una vera e propria stangata. Se l'obiettivo del Comune non è fare cassa, ma contrastare la cattiva abitudine di quanti lasciano alcune auto quasi abbandonate in sosta perenne in questi stalli, quasi fossero autorimesse, come ha detto l'assessore Mazza, si potrebbe risolvere il problema, secondo il sindacato, prevedendo il divieto di sosta in alcune fasce orarie, pena la rimozione forzata del veicolo con relativi oneri a carico. Per questo la CISL chiede all'amministrazione di valutare attentamente le ricadute del provvedimento in termini di maggiori costi e disagi e si rende disponibile ad un confronto per esaminare congiuntamente la questione.